Inizia in aula l'esame del piano sanitario. Elezione del vicepresidente del Consiglio regionale. Seduta straordinaria sul precariato in regione. Ricevuta una delegazione irachena. Il taccuino. Nella seduta del 13 marzo il Consiglio regionale ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Lamolinara, l'ingegnere di Gattinara ucciso a 47 anni dai sequestratori nel corso di un blitz anglo-nigeriano volto a liberarlo. L'Assemblea ha poi eletto Roberto Boniperti, nuovo vicepresidente, ed ha iniziato l'esame dei provvedimenti necessari per l'adozione del piano sociosanitario 2012-2015, proseguito nella seduta del 14 marzo. La seduta pomeridiana del giorno 13 è stata dedicata a una sessione straordinaria sul precariato nell'ente regione e a seguire sono stati approvati diversi ordini del giorno. Due documenti di solidarietà ai fucilieri del San Marco trattenuti legalmente in India, uno per promuovere una proposta di legge al Parlamento per le persone scomparse ed un altro per tutelare gli operai forestali stagionali.